A far l'amore cominci a tu Lei nel cuore della gente c'è finita subito, gli anni d'oro fino ad oggi sono suoi e tutto il mondo ce la invidia Dal Sud America alla Spagna è un simbolo di libertà in tutte le declinazioni fino all'Inghilterra Il The Guardian, il prestigioso quotidiano britannico ha omaggiato la stare italiana definendola icona culturale Che ha rivoluzionato l'intrattenimento italiano e ha dato alle donne la possibilità di prendere l'iniziativa in camera da letto Il giornale ripercorre la carriera e la vita della 77enne cantante e ballerina presentatrice Prendendo spunto dall'uscita del film musical Explota Explota diretto dal regista Nacho Alvarez ispirato alle sue canzoni Raffaella Carrà che ha venduto milioni di dischi nel mondo scelta come voce simbolo e colonna sonora del film Premio Oscar La Grande Bellezza Con il suo Tuka Tuka ha sdoganato l'esibizione naturale del corpo femminile Mai offensiva, sempre elegante, nei gesti e nelle parole E' più di un simbolo erotico, è un pezzo di storia tutto italiano Ha duettato e incontrato leggende, diventando la stessa un'eroina dei tempi moderni Una protagonista di stile, di impegno e di libertà Sto che scopi di 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 scop